Eccola Tipo laboratorio perché noi qui ci ripariamo le cose Tutto strumentazioni particolari che servono di tenere sotto controllo Con questo tecnica Questo è un panorama visto dal settimo piano Come il pianino Se l'avete visto prima da sotto Il vetro sporco Comunque che tutto succede Guardate com'è buono Questa parte Questo è buono Questo è l'ingresso invece della centrale Notare Non questa perché ci vuole E' così Ciao Questa è la sala terminali Da che macello Ci sono passati i cinesi Questa è una sala dove c'è il centro di controllo Per poter controllare tutte le altre centrali che esistono in Cina Questa è la nostra rete E questa è la centrale Questa è la centrale Questa è la centrale E' la centrale di Cierino Tante belle lampadine colorate E' fatta tutta così Ma spegniamo tutto Insomma corrente Dai che spegno tutto Guardate che bella c'è No che spegno Guardate Quanto è bella Tutta luce Tutta luce Tutta illuminata Bella Piaciuta eh Ci vediamo più tardi Prendi